Per le interviste impossibili di oggi abbiamo qui Nicolas Leonard Sadi Carnot. Salve a tutti! Mi scusi per averla introdotta con tutti i suoi nomi, ma era per evitare omonimie. Ah, si figuri, ci sono abituato. Sadi Carnot è famoso in Francia, ce ne sono parecchi, e si chiamano tutti in maniera simile. Mio padre Lazar, mio fratello Lazar Hippolyte, mio nipote Marie-François Sadi Carnot, figlio di Hippolyte, che ha il mio nome, e che ha addirittura diventato presidente della Repubblica. Che famiglia! Lei è cresciuto in un'epoca turbolenta? Eh, sì, in piena epoca napoleonica. Mio padre fu un fervente repubblicano e anche uno stratega militare di primo ordine. Praticamente riorganizzò le forze rivoluzionarie inventando la leva di massa, promosso giovani comandanti, come per esempio Napoleone, al posto dei vecchi raccomandati e contribuì non poco a sconfiggere le armate riunite di Prussia, Austria ed Inghilterra. Ah, i suoi concittadini l'avranno acclamato. Figurarsi. Lo accusarono di tradimento e dovette scappare in Svizzera. Poi fu richiamato da Napoleone, che gli chiese di riorganizzare l'istruzione francese, ma poco dopo se ne andò disgustato dal tradimento della Repubblica da parte del novello Imperatore Bonaparte. Comunque è scritta i vari trattati matematici e scientifici. Il teorema di Carnot è suo. Ah, ma pensa. Lei è famoso per il suo lavoro sulla potenza motrice del calore, in cui introduce l'idea di massimo rendimento per una macchina termica e in particolare introduce il ciclo che prende il suo nome. Una concezione molto moderna, che però lei coniuga con il concetto di calorico. Come si spiega? Beh, adesso per voi è naturale considerare il calore come una forma di energia, ma ai miei tempi, nella prima metà dell'Ottocento, non era così. Tenga conto che l'esperimento di Jaul, quello dell'equivalente meccanico del calore, quello, non so se si ricorda, in cui Jaul mise un frullino dentro un bicchiere e riuscì a mostrare che l'acqua si scaldava, usando il calore, del lavoro e basta. Ecco, quell'esperimento è del 1842. E poi, riguardando il mio lavoro, con gli occhi, diciamo, di voi moderni, direi che non avevo poi sbagliato di molto, semplicemente ho sbagliato termine. Al posto di usare la parola calorico, avrei dovuto parlare di entropia. Come, come, come? Entropia? Ma non è quella quantità che misura il grado di disordine di un sistema? Piano, piano. Per cominciare, la parola entropia venne introdotta nel 1864 da Clauses, quindi ancora dopo rispetto a Jaul, per indicare qualcosa legato all'energia interna di un corpo, ovvero la quantità di calore che passa in una trasformazione reversibile, divisa per la temperatura assoluta. Quella a cui si riferisce lei, ovvero il collegamento con il disordine molecolare, è dovuta al lavoro di Boltzmann e Gibbs, all'inizio del Novecento. Io invece fondai il mio studio sull'analogia tra macchina termica e macchina idraulica, aiutato in ciò dal mio padre, che aveva letto i lavori di Smith in Inghilterra. Ma a che c'entrano le ruote idrauliche con le macchine a vapore? Cerco di spiegarmi. Per cominciare, le ruote idrauliche si possono usare sia come sorgente di lavoro, facendo cadere dell'acqua, o come pompe per innalzare l'acqua, così come le macchine termiche possono anche funzionare da pompe frigorifere. D'accordo. Ora, quando è che una macchina è massimamente efficiente? Quando produce più lavoro possibile, data una certa massa di acqua e la differenza di altezza per le ruote idrauliche o un certo quantitativo di combustibile per le macchine termiche. Benissimo. Adesso pensi di accoppiare una ruota idraulica, che funziona da motore, con la stessa ruota idraulica che funziona da pompa. La ruota più efficiente non può che al più sollevare tanta acqua quanta ne è caduta, per non violare la legge di conservazione della massa e dell'energia. Vero. E lo può fare solo se non ci sono sprechi di energia, per esempio se non ci sono turbolenze, se non ci sono moti rapidi e chiaramente se non c'è acqua che cade al di fuori della ruota. Le macchine più efficienti sono quindi le macchine reversibili, che lavorano piano piano piano, in maniera quasi statica. Giusto. Ed effettivamente lo stesso ragionamento si applica alle macchine termiche. Proprio così. Il lavoro compiuto da una ruota idraulica reversibile è dato dalla differenza di energia dall'acqua all'ingresso e da quella all'uscita. E da cosa è data tale energia? Vediamo. Si tratta di energia potenziale gravitazionale, massa dell'acqua moltiplicata per la sua altezza, per l'accelerazione di gravità, che però è costante. E quindi, di ora in poi trascuriamo l'accelerazione di gravità. Bene. Cosa si conserva in tale trasformazione? Beh, la massa dell'acqua. Tanta ne entra, quanta ne esce. Esatto. Perché non ci sono appunto le perdite. No, perché la ruota è la più efficiente possibile. Consideri adesso questo. Come esprimerebbe la massa di acqua in funzione dell'energia in ingresso o di quella in uscita? Facile. L'energia è massa per altezza. Quindi la massa è energia diviso altezza. Ci siamo quasi. Per le macchine termiche l'equivalente dell'altezza è la temperatura. E quindi, l'equivalente alla massa che cos'è? Energia in ingresso o in uscita, ovvero calore, diviso per la temperatura. Ma è l'entropia. Esatto. Vedi adesso come potrebbero rileggere i miei lavori. Quando dico che in una macchina termica è reversibile, il calorico non viene né prodotto né consumato, in realtà va interpretato come entropia. Una macchina reversibile non crea entropia. Mentre converte parte del calore in lavoro. E vede anche che è necessario scaricare parte del calore, ovvero dell'entropia, possibilmente alla temperatura più bassa possibile per avere un'efficienza maggiore. Ma è bellissimo. Però la sua analogia non regge per quanto riguarda le macchine non reversibili. Una macchina reale ha un'efficienza minore di quelle reversibili e quindi crea entropia. Ma una ruota idraulica non reversibile non crea massa d'acqua. In realtà l'analogia funziona anche in questo caso, ma bisogna chiamare in campo il vostro amico, il professor Einstein. Einstein? E per cosa? Non ha mai sostenuto che si potesse creare dell'acqua. Ma ha scritto che l'energia è massa. Ricorda il titolo del suo lavoro del 1905, quello che contiene la famosa equazione E uguale a mc quadro? A dire la verità, no. Allora, il titolo era L'inerzia di un corpo dipende dalla sua energia? E quando si riferisce all'inerzia, ovviamente fa riferimento alla massa. Ovvero, un corpo che contiene più energia, contiene anche più massa. E il calore è energia. Vuol dire che un corpo caldo pesa più dello stesso corpo freddo? Certamente, ma non sono io a dirlo. È Einstein. Quindi, una ruota idraulica non reversibile spreca parte dell'energia d'ingresso, che va a finire in calore per via degli attriti e delle turbolenze, aumentando così la temperatura dell'acqua che esce. E quindi, aumenta anche la massa di quest'acqua scaricata. Così come in una macchina termica non reversibile, che spreca il calore e quindi espelle più entropia di quante ne abbia introdotta l'ingresso, si fa a finire per buttare fuori più calore di quanto dovrebbe. Voglio proprio fare la prova con una pentola d'acqua e una bilancia. Eh, purtroppo non troverebbe nulla. Il problema è quel fattore c quadro tra massa ed energia. Quella quantità c è la velocità della luce, che è già grande, per di più al quadrato. È vero. Devo dire che questa sua analogia mi ha chiarito che cos'è l'entropia, che è sempre stata una cosa misteriosa. Ma comunque, non ho mai capito cosa c'entra l'entropia come rapporto tra calore e temperatura e con l'entropia come disordine. Beh, per spiegare questo avrei dovuto aspettare la fisica atomica, Bohr, Schrodinger, compagnia varia, chiaramente oltre a Gibbs e Boltzmann. E perché? Cosa c'entra la fisica atomica? Allora, lei sa che secondo la fisica atomica, l'energia è data a disposizione delle particelle, elettroni, atemi, eccetera, eccetera, su certi livelli energetici. Sì. Questi livelli non solo sono i livelli di energia degli elettroni negli atemi, e anche l'energia cinetica, cioè quella di traslazione, per esempio, è quantizzata, come del resto tutta l'energia. Sì, è vero. Nell'esame di meccanica quantistica si calcolano i livelli di energia di una palla in una scatola. Bene. Pensi proprio a una scatola con i suoi livelli, e tante palline su questi livelli. Ricorda da cosa dipende l'energia di un livello? Ma da tante cose, dalla massa della particella, dalla larghezza della scatola... Ecco, la larghezza della scatola, ecco quello che ci serve. Più una scatola è piccola, più l'energia di un determinato livello si alza. Sì. E inoltre la densità dei livelli normalmente aumenta con l'energia. E allora? Adesso pensi di comunicare energia alla scatola, che rappresenta il nostro pistone contenente un gas. Lo può fare in due maniere. O facendo un lavoro comprimendola, oppure comunicando del calore. Nel primo caso, se lo fa piano piano, riuscirà a non spostare le palline che stanno sui vari livelli, ma riducendo la larghezza della scatola farà alzare l'energia dei livelli. È quello che si chiama lavoro agliabatico, senza passaggio di calore, e quindi senza aumento di entropia. E in effetti, non avendo spostato le palline, non ha certo aumentato il disordine della disposizione. Giusto. Invece, se lei comunica energia, ovvero calore, senza cambiare le dimensioni della scatola, l'unica maniera per aumentare l'energia del sistema è quella di far saltare le palline da livelli bassi a quelli alti. Ma dato che lei stessa ha detto che ci sono più livelli alti rispetto a quelli più bassi, cioè che i livelli alti sono più fitti, le palline si disporranno in maniera più disordinata, potendo spaziare senza problemi. Ho capito. L'entropia, quindi il disordine, aumenta quando comunico calore. Esattamente, ma questo non l'ho detto io purtroppo. Ah, mi sa che se lei non fosse morto a 36 anni, avrebbe dato ben altri contributi alla scienza. Ah, lei è molto gentile. Ma adesso devo andare. Arrivederci, e torni a trovarci quando vuole. Certamente. Magari porta anche mio padre. Arrivederci. Grazie a tutti.